Cala il sipario sulla Serie D per l'ultima di campionato del Gironne C, svuotata di contenuti tra il fanalino di Coda Chions, retrocesso da quattro giornate e la capolista Trento neopromossa da tre. Caldo estivo, ritmi bassi e unico bagliore nella prima frazione a firma Pinto, che dal palo lungo parcheggia in rete il traversone da destra di Belcastro. Cinque le reti nella ripresa. Valenta fa 1-1, poi vanno in rete Ferri Marini e Agliù su rigore. Valenta accorcia le distanze, ma Ferri Marini va ancora a segno per il definitivo 4-2 degli Aquilotti, che vale la ventitreesima vittoria stagionale, appuntamento a settembre in Serie C.